Signore e signori benvenuti nella mia avventura mafiosa di GTA Online Si scherza, si scherza, però mi sono messo anche la camicetta perché oggi volevo provare a comprare un'agenzia Mi hai detto Surry, Surry compra l'agenzia, come si fa? Allora uno deve andare sul sito online, su internet Finanze e servizi, allora specializzati in ambienti di lusso per ufficio a Los Santos Perfetto, bellissimo Uno entra qui, una volta qui si potevano comprare solamente le agenzie Quindi Arcadius Business Center Che tra l'altro è dove abbiamo noi il nostro ufficio, ho sbaglio? No, perché noi abbiamo il Maze Bank Tower Però sempre nella Maze, no qua abbiamo, ah no qua abbiamo il garage di livello 1 Ah abbiamo tutti i garage di livelli diversi a cui però non aggiungerò perché non ho soldi C'è un milione e sei, aspetta no ho sbagliato tutto Torniamo lì sul sito Ecco ora mi funziona il telefono tra le altre cose Due puntate fa no, che mi sono rivisto prima la puntata Divertentissima del... che mi faceva usare... Vabbè, allora Cosa si fa? Si possono comprare le agenzie Onesto, io non l'ho capito bene cos'è che si può fare con queste agenzie Però abbiamo una qui che è vicinissima al Casinò Aviso il Casinò è casa nostra ora Perché no? Perché non usare questa? Io sto controllando che ci sono solo a Downtown le agenzie Ci sarà un motivo La più costosa tra l'altro è proprio quella vicino al Casinò Costa 2 milioni e 8 Purtroppo io prestiti non ne posso fare Che io sappia Make it big, nothing is free Mi piace un botto Carta da parati Lasciamo... Lasciamo... Per il momento Cioè se metto un cambio colore cambia tutto Un casino Armeria? No, non voglio l'armeria onestamente Alloggio? Voglio anche l'alloggio 270 Officina? No, ma in che senso? Beh, secondo me ha senso aggiungere tutto Però scusa così E poi mi raccostare tipo 4 milioni E non ce le ho C'ho un milione e 6 So povero, signore Non pensavo di poterlo dire Ma so povero Acquista 2 milioni e 8 Non posso permettermelo Cioè mi fai fare... E visitare lo store Deve stare molto calmo Allora Abbiamo compiato Qualsiasi tipo di attività All'interno di sta cazzo Di... Di questo cazzo di gioco Vuoi dimmi che non abbiamo un modo di fare soldi? Io non ci credo Io onestamente non ci voglio credere Ma che sia andare a puntare tutto sul rosso Cioè in qualche modo Bisogna fargli sti cazzo di soldi Diventiamo capi Diventiamo CEO Della nostra Secure Serve E capiamo dove andare a fare... Cioè come possiamo... Un po' di soldi Toccherà farli Che cazzo Allora Andiamo in ufficio Posso? Posso dirgli tipo Portami in ufficio da solo? Abilità CEO Richiedi elicottero di lusso? Ma sì Oh cazzo Ho appena chiesto un elicottero E ho speso 5.000 dollari Quando dovrei guadagnarmi I soldi Vabbè Allora Signore elicottero Venga qui Per favore Dove sta atterrando? No È che devo andare in ufficio A capire Fermo Fermo col McCann Che fai i casini Eh che cazzo Sì sì Stai molto calma Signorina assistente Torniamo in ufficio Perché voglio capire Come fare i soldi Beh non è che io sto qui Ho speso tutti questi milioni di dollari Oh che bello il elicottero Ok spostamento rapido Voglio andare alla Mates Bank Tower Credo di sì Andiamo in ufficio Perché dall'ufficio posso far partire qualcosa Immagino Immagino eh Poi magari mi sbaglio Però di solito no Grazie Sis Allora Eccoci qua Ci sediamo al nostro bellissimo computerino E capiamo il da farsi Perché Devi stare molto calma Tanto mi avete detto Molto interessante Che posso Prendere tutti gli snack che voglio Gratis in ufficio Cosa molto intelligente Se posso dire Infatti Ragazzi posso dirlo? Lo voglio dire? Lo sto dicendo? Prendi tutto C'era il tasto apposta Pegasus Consession Non mi interessa Posso cambiare E mettere qui Perché se non sbaglio Io ho casa anche qui Posso mettere qui Il mio Tipo Il mio quartiere generale Bisogna tornare a grindare Ragazzi Si dorme in ufficio Capito? Cioè Non si vuole Non dobbiamo cazzeggiare qui Ma non voglio andare a letto E basta Volevo fissare tipo Come faccio Come faccio a fissare Il mio Invite in ufficio Aspetto Sfide Preferenze Rientro Ecco Rientro Attico Del lusso No Cosazca Il mio grande Casino In teoria Casuale Del Perro Heights Del Perro Heights Yacht Privato Mates Bank Tower Lo impostiamo In questo modo Io so che torno sempre qui E che siamo operativi Che abbiamo il computer E possiamo lavorare Figa Al lavoro Al lavoro C'è qualcosa qui in cassaforte? Apri la cassaforte Non c'è una cassaforte qui? Me la sono sognata Perfetto Allora Andiamo a lavorare un po' Dobbiamo fare un paio di milioni Quanto sarà difficile Fare un paio di milioni Spero non troppo Ok Accediamo Carico speciale Esportazione veicoli Missioni veicoli speciali Vediamo carico speciale Cosa possiamo fare di bello Abbiamo Guadagno totale Un milione e uno Ottimo Ottimo Cosa vuol dire Mappamagazzino Abbiamo un magazzino qui E basta Ah Dobbiamo prima Comprare le casse E poi venderle Questo Abbiamo qualcos'altro qui No Allora Partiamo da questo Che mi viene più facile Allora Acquista Se vuoi costare un carico di droga Compriamolo Compriamolo Ok Ora ho speso 18 mila dollari Per comprare la droga Ora devo andare a recuperarla Allora c'è da dire che il modo più veloce Per fare soldi Sicuramente sono i colpi Però sono anche lunghi Come Esci tramite veicolo No ma Cioè Volessi uscire Con il mio veicolo No Torniamo in ufficio Prendiamo una macchina Prendiamo la Bugatti Ragazzi bisogna tornare Business Business Ok un po' tipo a sbullar Business Business Sono messo la camicia apposta Cazzo O prendiamo La Diablo Ma cazzo io non avevo una Bugatti A qualche parte Questa non è una Bugatti Ah Forse Forse di sopra Piano di sopra Abbiamo anche l'oppressor Mark II Incredibile Allora Andiamo velocissimissimamente A recuperare La Eccola lì la Bugattina Eh perché comunque È veloce Guida da Dio Non so se l'ho mai Upgradata Ma onestamente Cazzo se non avessi comprato La Forge Nell'ultima puntata Potevo permettermi Una attività Che mi abbia fatto fare Dei soldi probabilmente Capito Un disastro Un disastro Va bene Ah cazzo ma è un chilometro da qua Potevo andare a piedi A momenti Non è vero Ma dai Ti ho appena detto che guidi bene Mi ti schianti La signora Bugattina Ma parte la musichetta Tune Dalle vide No Vediamo Ma che senso elimina gli elicotteri Ma non ho capito Cosa vuol dire Elimina Gli elicotteri Gli elicotteri? Ma non c'era un cazzo di elicotteri Quando giocavo io a sto giochino Per recuperare la droga Ma in che senso? Ma non li vedo manco Aspetta Devo andare un po' avanti Andiamo a destra Saremo sul ponte Che dal ponte vediamo meglio Li vediamo? Sì che li vediamo Allora Frena Allora con molta calma Sono lì sopra Allora Speriamo al primo Troppo lontani? Mortacci sua Ma sono in elicottero Come faccio a raggiungerli velocemente? Dovrei prendere tipo l'oppressor Ma non c'ho lanciato missili Sul l'oppressor C'ho la mitraglietta Ce la facciamo signori Ce la facciamo Se perdo sto carico Da 18.000 dollari Mi incazzo come una Una faina Per fortuna che ho cambiato macchina Perché quella Porsche Era simpatico Ma non so se ce la faccio Guarda recuperare la strada Non so se ce la faccio così Ok Ora andiamo dritti dritti Li vedo in lontananza Ma non è un problema Ora che siamo in autostrada Raga Secondo me è più veloce La bugattina Dell'elicottero Te lo dico così Perché secondo me è vero Guarda li vedo Li vedo Madonna li faccio esplodere tutti Come se non ci fossero domani Allora potrei salire qua sopra Ma poi per rientrare in autostrada È un casino Quindi mi fermerò in autostrada Fermerò tipo Qui all'ingresso Dove sono? Dove sono? Uno Due Tre Colpiamo l'altro No 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 Uno Due Tre Ok E quello Troppo lontano Raggiunto il secondo A Deve recuperare anche le casse Che sono cadute Giustamente Giustamente Dove cazzo sono le casse Sono qua sopra? Ai 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 Piano 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 Dove cazzo sono Bo Oh, 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 stanno attirando ora Ok, una recuperata Due recuperata Sto già trasportando una cassa Ma cosa, ma cosa Cioè devo portare le cose al magazzino E poi tornare Una cassa alla volta No, 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 no No, 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 no Cos'è sta cazzata Ma da quando in qua No, aspetta, ora me lo ricordo Da sempre, maledetto è da sempre Non dovrei prima rompere Il terzo elicottero Potrebbe avere senso rompere il terzo elicottero In effetti, avrebbe avuto senso rompere il terzo elicottero Eh, sono un po' arruginito Ragazzi, sono un po' arruginito Ora mi ricordo che non le facevo ste cazzo di missioni Sono una palla incredibile Cioè, devo più guidare che fare altro Insulso Insulso, ti dico Ora prendo l'oppressore, perché non è che posso fare Cioè, onestamente Cos'è sto disastro, così Stai già trasportando una cassa Ti giuro, mi sono cascate le palle a leggere quella roba là Ma il mio magazzino è qui, giusto? Credo di sì Eh, consegniamo la prima cassa Consegnato un carico speciale Sì, ma una cassa Ne mancano due Speso 18.000 dollari Ah, il nostro personale può essere No, adesso durante la missione non mi fa fare nulla Cioè, capito? Che caccata incredibile Ragazzi, davvero Allora Crediamo Veicoli Allora, gestione dei veicoli Riporta veicolo personale al deposito Richiedi No, 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 no No, cazzo Non volevo richiedere il mio veicolo Voglio chiedere un altro Che avevo il meccanico Sta riuscendo ad alterare questa cosa, ragazzi Si chiede davvero Allora Garaggio dell'ufficio Oppressor Mark 2 Forza un po' Non mi fa fare la richiesta Perché la prossima richiesta Di spiegare tra un minuto e venti Sto gioco Cosa vuol dire? Rimane l'elicottero Chissà che fine ha fatto l'elicottero ora Dov'è? Beh, a puttane Mi stai inalberando questa cosa Aspettiamo questi 30 secondi Dimmi tu Io Madonna, non ho parole Sta zitto, guarda Ti ammazzo, eh? Un po' aggressivi Altri 9 secondi 6 3 2 1 Oppressor Mark 2 Forza un po' Dai, mettimela davanti agli occhi Non voglio sentire storie Top Ma in mezzo alla strada Così me la investono anche Maledettissimo Maledettissimo Allora, andiamo prima Ad ammazzare l'elicottero Che non so manco Che fine ha fatto Ora onestamente Però Ah, ma è lui? Cazzo, mi sa che è lui? Scendiamo Come si scende? Shift Manovra di discesa Un po' strana Però stiamo scendendo Ok Ok, dobbiamo andare dietro l'elicottero E fagli il culo Oh cazzo Mi sparano anche? Mica se ci muorio No, allora Scendiamo un attimo E spariamogli Perdonami Non è che ci muorio io Per fare sta cazzo di missione Per 18.000 euro Non saranno pochi Ma non sono neanche tanti Signori Dov'è? Maledetto Madonna Spero che tu esploda Ancora più del dovuto Bello Bello Allora Copriamo la cassa Dov'è? Eccola qua Che ora devo riportarla al magazzino Cioè Sta roba per me Non senso davvero Allora Atterriamo Come si atterra? Spazio? Ah cazzo Era spazio Ok dai Forza un po' Cioè in tutto questo Ho speso Capito? Cioè ho speso dei soldi Non è che ho guadagnato C'è un problema C'è un piccolo problema Di percezione proprio L'unica cosa che mi fa venire un po' Diciamo Voglia di perseguire Questa cosa malatissima Che sto facendo È che essendo in sessione privata ora Perché altrimenti c'è tutti gli hacker I glitch Era un casino In teoria la missione di consegna Poi del carico Dovrebbe essere molto più semplice O sbaglio Se non hai gente che ti fa esplodere il carico Che mi ricordo mi ha fatto bestemmiare Le cose indicibili Sono state dette per via di hacker In alcune sessioni di GTA online Cioè ora mi è uscito un countdown di 5 minuti Cioè se non avessi avuto l'oppressor Sarei stato nella merda Ok Carico consegnato 3 carichi Valore carico speciale 81.000 dollari Quindi ho speso i 18 Ok Gli incossi giornalieri della sala giochi Sono stati aggiunti alla cassotta del tufficio 21.000 I guadagni giornalieri dello sfascio a carrozze 1.200 La quota giornalieri del nightclub è stata aggiunta Ok quindi ho fatto 30.000 dollari Che sono stati messi nella cassaforte Del mio ufficio tutto sempre Io spero di sì Allora posso già vendere per 81.000 Ma io posso invece Far lavorare i miei dipendenti Che non sarebbe male Potenziamenti No dai questo c'avevo già al massimo Aereo per consegne No 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 Vabbè già che ci siamo Consegniamo No Scusa se io parlo col bro Lui può andare a prendere altre casse Recupera carico Vai recupera Perché non potevo farlo online Sta roba qui Madonna Era una Una goduria Sarebbe stata una goduria Ok quindi ho mandato il dipendente a lavorare Che è già qui Insomma Ripeto Dovrei poterlo fare da qualsiasi tipo di Situazione Ora mi viene il dubbio Andiamo Alla cassaforte dell'ufficio Cioè in teoria dovrei avere dei soldi Allora mi sento un po' Harry Potter In questo caso Ma penso che forse La fisica sia la stessa Di Hogwarts Legacy Tra le altre cose Posso atterrare qui Grazie Ora mi fai entrare Nel mio cazzo Per favore Di Ufficio No Non mi fai entrare Che non mi fai entrare Nel mio cazzo di ufficio Per favore No 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 Porca puttana Si è lanciato Oddio Si 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 E niente Come non detto Avevo visto il paracaduto E ho detto Ah che figata Almeno posso sopravvivere Boom Schiantato E va bene così C'ho ancora le mie armi Fortunatamente si Non ho parole Beh torniamo in ufficio La mia auto Ma dov'è In cima Palese Palese Allora Sis Do cazzo è la mia cassaforte Devo recuperare un bel po' di soldini Qua mi sembra eh Io Convinto che fosse qui Onestamente Però Per sbagliarmi Ma in passato non era lì Compravo un armadietto armi E Ah per aprire la cassaforte Ma in che senso Ma è nascosta nel muro Ma che figata Grazie al cazzo Che non la riconoscevo Ma quanti soldi c'ho qua dentro Ma di lusso Quanti soldi sono Posso prenderli? Non posso prenderli? No scusa Perché non posso? Cioè mi vengono Dati automaticamente Quanti soldi ho ora? Se io premo tab Ho un milione e cinquecentosettantasette mila Quindi ho meno soldi di prima No vedi Non sto capendo però bro C'è un problema Sono stati messi in cassaforte E io voglio prelevarli Non posso? Non capisco Non capisco Ha pure il countdown Mi dai? Gran pezzo di merda Mi dai pure il countdown Sui magazzini Comunque sta roba che io Cioè dovrei poter assumere Un dipendente Che mi prende le casse da solo Proprio onestamente Dovrei poterlo fare Esportazione i veicoli Ah Vedi qua c'ho già Un po' di robe da fare Ah ok niente Mi vengono dati automaticamente Cioè c'è scritto che Te li mette nella A meno che Per cassaforte dell'ufficio Lui non intenda La cassaforte dell'ufficio Dove io ho fatto la roba Madonna Esci tramite No esci nel piano terra Dove andare sul tetto Perché ho lasciato di La mia macchina Vero? Sono un disastro Sono un disastro Una cazzata dopo l'altra Sto facendo Dimmi che c'ho l'auto Mi incazzo È sopra Cioè devo fare il giro Il giro della serva Allora Proviamo O no? Allora mi ha detto Che sicuramente Ho dei soldi di recuperare Dalla net club Andiamo al net club Al mio Perché c'è anche quello là Bellissimo del Del casino Ma non è mio Penso che io possa Comprarlo Ma chissà quanto cazzo costa C'è la fila Di lusso Fanno soldi qua Oh Qui c'è una macchina Ah Ecco il mio super office E qua in teoria Deve avere una super cassaforte No? 11.000 dollari Ma no Mi aspettavo di più Mi aspettavo di più Cazzo Però qui se apro la cassaforte Posso prendere i soldi Giusto? Io penso di sì Se aumento la popolarità Posso fare più soldi Sono tutti stracciati qua dentro Vabbè prendiamoli O meglio di niente Ne ho speso i 18.000 Prima Ora Merce totale Ah mi piace C'è anche della merce Ok Ok Quindi la posso vendere prodotti Posso vendere tutti i prodotti 238.000 Subito Ah cazzo Questo è quello che volevo vedere Figa 300.000 dollari Easy Sale sul veicolo per le consegne Ma ci salgo molto volentieri Ok ho 20 minuti per consegnare tutto Allora Selezionare l'app Che sbatti Oddio Che sbatti No Ecco Oh Morp Morpheus Palese Oh no Cazzo Morpheus Perfetto Allora Primo segnale Due chilometri da qua Sono tre consegne Quindi saranno 70.000 Più o meno 90.000 Sono quasi 300.000 Allora Fortuna vuole Che in teoria Queste consegne Dobbbero essere La cosa più semplice del mondo Perché Non avendo nemici Cioè Non essendoci Gli altri giocatori interessati La missione l'ho fatta Anzi Qui addirittura Ho dei dipendenti Che mi accumulano le cose Devo solo venderle O sbaglio Io credo che funzioni così Infatti Non vedo pallini rossi Sulla mappa O i miei 20 minuti Per fare il giro Di tutto Tutta la mappa Probabilmente O c'è qualche sorpresa Qui in cima O siamo Siamo contenti Siamo contenti Questo è quello di cui parlavo Figa vai Soldi Business 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 Allora Consegna numero 1 Che è qui Giusto Perfetto Consegna ai prodotti Fantastico Ora Consegna numero 2 Ah Devo Devo localizzare il secondo punto Va bene Cazzo sta roba Questa è nuova Vabbè poteva darmi semplicemente la location No Ah se ne sbaglio uno Ne sbaglio tutte Mica 5 chilometri Ecco se non ci fossero gli acre E dove si difendemi da altri giocatori Uno sarebbe difficilissimo Però mica quanto sarebbe divertente Perderei tutti i soldi Mi farebbe incazzare come una faina Però sarebbe un incentivo A migliorare O a farlo con la crew Tipo Ma che mitragliona C'ha sta roba Madonna Ma con questa battiglia Aerei Porca vacca Bellissimo Bellissimo Allora La consegna numero 2 Effettuata Et voilà E usa l'app Per vedere l'ultima consegna E che cosa devo fare qua Devo selezionare 43 Oh lo vedo Lo vedo Lo vedo Lì in basso No No Era lì Era lì Cazzo no Ah perché cambia ogni tot No Cazzo Avevo trovato Ok Oh Minchia la cassa è così pesante Non riesco Eh dai Scendiamo dalla montagna Che ci frega Eccoci qua Ultima consegna Fatta Ah devo lasciare anche qui il bro Rotti venduti Si vola 238.000 Giusto? Era quasi 300 Dimmi che era quasi 300 Non mi ricordo Minchia 214.000 Ma come La parte di Tony 23.000 Parte di Tony Oh Tony Ma che cazzo fai Bisogna eliminare il middleman qui Eh Ora quanti soldi ho quindi Wait Tony Dimmi Ok dove c'è scritto 1.792.000 Beh meglio di Meglio di un calcio In quel posto Se chi è una domanda Vado a fare al volo Anche quello Chiediamo il mio veicolo Scusami Già che ci sono Vado a fare anche quello del magazzino Oh mica sono un culonia No no Chiamo un elicottero Chiamo un elicottero e andiamo Questo è il magazzino Magazzino su Real Power Sì Ok L'elicottero sta arrivando Atterrerà qui Andiamo E ormai mi sono Mi sono emborgesito Mi sono emborgesito Mi sposto solo con gli elicotteri di lusso Signori Oddio LS Marine O Backlot Lingerie Derriere Ah non lo so Come si chiama Del Perro E questo è LS Marine No Place Plus No e allora boh No scusa Ti imposto la meta Ma a sto punto guidavo io Scusa Assalto F No F si lancia Vabbè Godiamoci Signori Che devo dire Godiamoci almeno Posso navigare in rete anche Beh sì Controlliamo il nostro stock option No scherzo Sì insomma Fatti Fatti un drink Stiamo aspettando Siamo qui Sto giocando da un'ora Per fare 200 mila dollari Perché giustamente con l'elicottero Non è che puoi andare ovunque Bisogna di magazzino Dove puoi atterrare con l'elicottero Ha senso Ha senso Appena spiegato 5 mila dollari Ma quando siamo lenti No no Spostamento rapido Andiamo Non so cos'è Backlot lingerie derriere Ma facciamo finta di andare lì Spero di non essermi allontanato Ho paura di averlo fatto Ma spero di non essermi allontanato Chissà dove sono arrivato Ah ah Vedi Te l'ho detto che ero qui Cazzo Ok Usiamo il computer Il mio bro non è tornato Quindi Facciamo la consegna Così com'è Vendi Sei casse 81 mila dollari Tocca Ah vedi Quando giochi nelle sessioni pubbliche Ti danno un po' più soldi Però insomma A me non interessa Noi dobbiamo Una sola consegna Godo Ma facilissimo Queste Due chilometri Una singola consegna Bonus consegna 9 mila dollari Non so cosa voglia dire Ecco magari perché sotto i 100 mila dollari Se fosse stato sopra Probabilmente mi piaceva fare anche qui Due o tre consegne Anche perché il tempo è rimasto Mezz'ora Sembra eccessivo Ok ci siamo quasi Come entro qui dentro Mi leva bonus tra l'altro Perché forse devo entrare da qui No Da qui da qui Ah Fantastico 88 mila dollari Perfetto E qui Tony non si è preso nessuna commissione almeno Maledetto Vabbè ragazzi Per il momento è tutto Se non riuscire a tirare su Più o meno 300 mila dollari Eh più o meno sì Male 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 Siamo a 1 milione e 8 E non possiamo ancora comprare Quello che voglio comprare Perché doveva essere tipo A 2 milioni Almeno 2 milioni Per l'agenzia Che poi non so cosa mi fa fare l'agenzia onestamente Però insomma Siamo qui Per il momento è tutto Ci vediamo nei prossimi giorni Con una nuova puntata Di un altro gioco Qualsiasi Ci vediamo Ci ho tutto Tutto Tutti